Ciao ragazzi, questo è F, benvenuti a Marrakesh e il mio spazio speciale è Senk Senk Senk. Voilà e benvenuti, c'è Miss Matilda Blogg e con me è la DJ Cox. Come va? Ça va, bien. Good, bene. Sa va tutto bene? Bene. La DJ Cox è la DJ dei residenti del club 555. Ma quando hai cominciato a fare la DJ? Depi 98, 15 anni. 15 anni. E qual è la musica che ti preferi? House. House musica. D'Eltidati. Ma io so che ti fai una produzione musicale. C'è solo un remix. C'è un remix con i arabi, Shab Khaled, Ryan. Un remix con i arabi, con i arabi, con i arabi, con i arabi, con i arabi. E qual è il futuro? Star DJ. A presto di DJ Cox, c'è un gimmick con i arabi, con i arabi, con i arabi. a tutti il Maroc, ma a l'estranger, non abbiamo ancora avuto la chance, e c'è tutto. Tu l'auras, tu l'auras, tu l'auras la chance. Sì, spero. Che cosa pensi di Marrakech, dove sarà il futuro di Marrakech per la musica? Penso che questa è la vita più frequentata al Maroc, per le star, per la musica del Maroc, per la musica del clubbing. Ci sono le migliori club in Marrakech. Il 5-5-5? C'è il 5-5-5. Ci sono molti altri club, ma il 5-5-5 è il club che funziona il più in questo momento. Io sono qui con il DJ Zak, che è un club residente del 5-5-5. Cosa sei oggi? Siamo buono, sento bene, il sole è buono. Tutto è buono. Puoi uscire al Seng Seng Seng? Il club famoso? Seng 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 è un club famoso, è ora il miglior club in Marocco quest'anno, è un club molto buono. Quindi quando ti startingi a giocare la musica? Mi piace la musica quando ero bambina, e ho iniziato in casa, ho compito Pioner e ho iniziato con questo in casa. Dopo ho fatto qualche parte privata con amici, ma dopo circa 4 anni sono un DJ professionale. E ora sono un DJ residente in un club 555. Zacc, so che ti piace la musica, ma anche sei un grande produttore. Quali musica preferisci? Per me preferisco la musica con vocali, ma quello che mi piace veramente è la musica latina, con l'apro beat, con la vocali latina. Questo è quello che mi piace davvero. Quali artisti ti sono iniziato? Mi piace molto, ma quello che mi piace davvero per il show, per la musica, è il DJ Chaki, Gennaro in Villa, è il mio migliore amico, mi piace. E molti altri DJs da Niederlanda. Mi piace molto di DJs da Niederlanda. E questo è una buona frase. Si, sono in Amsterdam, l'anno scorso, il primo giorno. Mi ha spinto in un grande festival, un grande villaggio latina. La musica di Natale è solo la musica latina. Noi altri musici, solo la musica latina. E' stata una buona esperienza per me, per questo mi piace la musica latina. E' la musica di Kimberly, è la tua musica speciale. so guys this is miss matilda blog and i want to say thank you so much to me my agency for giving me this nice opportunity at sang 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 famous club thank you so much